Siamo a Saltara, dove il 13 ottobre 2012, presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi, alla presenza degli alunni e delle loro famiglie, il sindaco dottor Fabio Cicoli, il dirigente scolastico professor Paolo Olivieri, la dietista dottoressa Cristina Lorella Barducci e l'assessore alla famiglia e welfare Stefano Brunori, nell'ambito della manifestazione Mangiando si impara, hanno presentato ufficialmente il menu appositamente studiato per la mensa scolastica. La particolarità dell'iniziativa sta nel fatto che i cibi serviti agli alunni sono preparati utilizzando prodotti biologici a chilometro zero, ossia forniti da produttori locali. La gestione della mensa è stata affidata alla cooperativa sociale Gerico, che utilizzerà prodotti forniti dall'emporio, ossia dal punto vendita dei produttori biologici locali. Nei rispettivi interventi, l'assessore Brunori, che in una precedente intervista a Onda Libera TV aveva già illustrato l'iniziativa, ha evidenziato l'importanza data progetto, col quale oltre a garantire la fornitura di alimenti di alta qualità nella mensa scolastica, si è voluto diffondere una corretta cultura dell'alimentazione tra giovani e adulti, affinché a casa non si vanifichino gli effetti positivi raggiunti a scuola. Questo nell'ambito dei compiti costituzionalmente previsti per gli enti pubblici, tra i quali la tutela alla salute. Il Dottor Cicoli e il Professor Olivieri hanno evidenziato l'importanza di una corretta alimentazione rispettivamente dal punto di vista medico e dal punto di vista educativo, nella convinzione che è un menu ben strutturato in cui sono inseriti alimenti biologici, è indispensabile per garantire ai giovani e adulti le necessarie energie per una corretta crescita e una vita sana. Il Professor Olivieri ha poi affidato alla Professoressa Adriana Gaggioli l'illustrazione della concreta gestione della mensa scolastica. La Dottoressa Barducci, dietista presso il Comune di Cesena, avendo collaborato con il Comune di Saltara nella realizzazione del progetto, ha illustrato l'importanza di un menù variato, con cibi di ottima qualità e sempre ben combinati tra loro per garantire ai ragazzi una crescita sana, evidenziando i metodi usati per far accettare anche alimenti poco graditi ai giovani, come le verdure, ma indispensabili ad un buon nutrimento. I consigli per una migliore alimentazione sono stati sintetizzati nell'opuscolo Mangiando si impara, redato a cura della stessa Dottoressa Barducci e distribuito gratuitamente ai presenti. Al termine è stato offerto un assaggio di alcuni piatti inseriti nel menù della messa scolastica, precisamente sono stati serviti minestra di verdura con orto, pizza e verdure in pinzimonio, tutti realizzati con ingredienti provenienti da agricoltura biologica. Amici di Onda Libera TV, un saluto!